I premi fanno sempre piacere. Un premio alla carriera, nel mio caso, credo di aver fatto una quasi bella carriera e quindi è giusto premiarla. Purtroppo stiamo attraversando un brutto periodo sia teatralmente che cinematograficamente. Il settore spettacolo, lo sappiamo, è in ginocchio, voluto dai nostri grandi politici tutto ciò. Dice che con la cultura non si mangia e quindi cambam rari. Quindi queste vostre iniziative, se noi possiamo aiutarle con un piccolo contributo, perché ci chiamiamo Pingo Pallino, io sono ben felice di farlo. È quasi un chiedervi scusa della rovina che vi abbiamo prospettato. Sono qui proprio perché è un'iniziativa che nasce dai giovani e sono felice di partecipare a questa cosa, se posso essere di aiuto.